Oggi è la giornata internazionale delle api. Questi esseri così importanti per il nostro ecosistema, per la nostra vita, perché producono il miele che per gli antichi corrispondeva al sole che si concretizzava nel mondo animale. Tant'è vero che il miele ha il colore del sole, è un grande energizzante, antisettico, antinfermatorio e un sacco di proprietà. Per rendere omaggio alle api voglio leggervi questa poesia in cui appunto parlo di questi raggi di miele che riescono a dare vita a un'umanità cieca che spesso si dimentica degli altri, si dimentica dei propri simili e vive nell'odio. Ashtag umanità cieca. Come sperduto nell'immensità, guardo l'umanità cieca vivere, quel nulla che sa di scialbapatia. La luce del mattino non è per lei vera corona di rinascita, alla vita che germoglia ogni giorno sulle soavi dita d'aurora. La tenebra della notte non è materna culla di calore tenera. Non gusta del sole i raggi di miele, ma dell'odio mercenario si usura, sdegnando stolta i gioielli del cielo. Quindi un invito a cibarci di miele, a questi raggi di miele, cioè di calore, di umanità, di soratellanza, di sorellanza, di rispetto e amore per gli esseri umani. Grazie.